Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa cinquantaquattresima puntata del podcast di Marcos Box. Dopo una piccola pausa di una settimana dovuta a vicissitudini personali, torniamo a parlare dei nostri amanti programmi liberi. Iniziamo la settimana parlando di Blender. Questa settimana è stata rilasciata la versione 2.82 di Blender, Blender lo conoscete tutti, è un software libero e multiplattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione e rendering di immagini tridimensionali e bidimensionali e chi più ne ha più ne mette. Si riesce a fare davvero tantissima roba con Blender. Il team di sviluppo ha annunciato il rilascio della versione 2.82 che oltre a portare la consulente correzione di debug offre anche alcune funzionalità tra le quali troviamo MantaFlow che è un nuovo framework di simulazione dei fluidi basato sulla fisica che funziona sia per gas che per liquidi, miglioramenti nella simulazione dei tessuti, supporto UDIM, supporto USD della Pixar, ottimizzazioni per schede grafiche Nvidia RTX, rendering più veloci su Windows e alcuni miglioramenti nell'interfaccia utente. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni con le note di rilascio, i link e quant'altro. Passiamo adesso all'editing di immagini, passiamo adesso a GIMP. Il team di GIMP ha ufficializzato il rilascio della versione 2.10.18 che offre alcuni miglioramenti per quanto riguarda il supporto al formato PSD, nuovi strumenti di trasformazione 3D per ruotare e spostare gli oggetti, correzione di bug e anche alcuni miglioramenti dell'interfaccia utente come ad esempio gli strumenti adesso sono raggruppati per tipologia, per impostazione predefinita, quindi che ne so, pennelli, all'interno del strumento pennelli trovate anche la matita e quant'altro, quindi un'interfaccia più semplice che si avvicina al modo di lavorare che troviamo su altri programmi di fotoritocco, su tutti Photoshop. Comunque se non vi piace questo tipo di impostazione, nelle impostazioni del programma è possibile tornare all'interfaccia classica, quindi con tutti quanti le icone da fuori. Qualche settimana fa vi avevo parlato del rilascio di Mate Desktop 1.24, in occasione del rilascio molti si erano interrogati sulla possibilità o meno di vederlo approdare sulla prossima LTS di Ubuntu Mate, quindi Ubuntu Mate 20.04. Bene, Martin Winpress ha sciolto ogni dubbio la scorsa settimana e ha confermato l'arrivo di Mate Desktop 1.24, mentre vi sto parlando è già uscito da ormai una decina di giorni, quindi sulle ISO, quelle dei lì, è possibile avere già da adesso Mate 1.24 su Ubuntu Mate 20.04, scusate il gioco di parole, quindi se siete amanti di questa distribuzione avrete la possibilità di utilizzare l'ultimissima versione di Mate Desktop. Restando in tema Desktop Environment, il prossimo 11 marzo verrà rilasciato Gnome 3.36 e approderà finalmente un importante aggiornamento per la schermata di login e quella di sblocco. Gli sviluppatori hanno dedicato molto tempo a rifinire la schermata di login e quella di sblocco e all'interno di Moxbox potete vedere anche un video che vi illustra la nuova schermata. Adesso è tutto più pulito, ci sono meno clic da fare ed è più gradevole da vedere esteticamente, quindi un impatto visivo più carino. Fa sempre piacere che venga data attenzione ad alcuni particolari come questi che contribuiscono a migliorare la sensazione di piacevolezza di utilizzo di un desktop environment. Torniamo a parlare di Mangiaro. Il tema di Mangiaro ha annunciato il rilascio della versione 19 di Mangiaro, nome in codice Chiria. Questa nuova edizione stabile di Mangiaro offre anche in questo caso, anche a questo giro, XFSE come edizione principale, quindi la maggior parte dell'attenzione è andata proprio a questa edizione. XFSE è la versione 4.14 con una serie di miglioramenti dell'esperienza utente, nuove versioni del tema Matcha, una versione chiara e aggiunta di qualche altra funzionalità che ci consente ad esempio di impostare più profili di visualizzazione, profili che possono essere autoapplicanti quando colleghiamo nuovi display. L'edizione con KDE offre Plasma 5.17, il cui aspetto è stato completamente riprogettato per questa versione, perché la 5.17 e non la 5.18 che è stata rilasciata qualche settimana fa, perché ci sono ancora alcune correzioni di bug da apportare alla 5.18, il team di Mangiaro ha preferito andare sul sicuro, quindi rilasciare la 5.17. Non vi preoccupate, arriverà a breve la 5.18, l'ho già annunciato tramite il profilo Twitter, poi essendo una semi-reonging non ci sarà bisogno di aggiungere niente ai repository, quindi arriverà a breve, a stretto giro su Mangiaro, quindi vi basterà aggiornare il sistema e vi troverete la nuova edizione di Plasma. Anche in questo caso ci sono state delle ottimizzazioni per quanto riguarda l'aspetto con una nuova versione del tema Breit 2, con queste versioni chiare che scure, splash skin animati, profili per console, skin per Yakuwake, a Kate sono state aggiunte alcune combinazioni di colori aggiuntive, viene preinstallato Plasma Simple Menu, che è una valida alternativa al launcher classico kick-off, e ovviamente troviamo le KDA Equication 19.12.2. L'altra edizione principale è quella con Gnome, offre Gnome 3.34, e anche in questo caso ci sono state delle personalizzazioni per quanto riguarda il tema, ma la personalizzazione più importante riguarda l'arrivo di layout switcher. Ve ne avevo parlato su Marcosbox, dove trovate anche un video che vi illustra quali sono i layout disponibili, che cos'è? Un'applicazione che praticamente consente di cambiare al volo l'aspetto, il layout del desktop, con una serie di layout predefiniti che imitano i sistemi operativi più diffusi. C'è ad esempio il layout principale, quello mangiare con una via versione vanilla di Gnome, una versione che si ispira a Mate Gnome 2, una versione desktop tradizionale che si ispira a Windows, una versione desktop moderna che si ispira a Mac OS, e infine una variante chiamata Unity che si ispira al tema di Ubuntu. Su Marcosbox trovate il link al video che vi fa vedere le novità, o meglio, vi fa vedere praticamente quali sono questi layout e come funziona questo tool. Comune, ovviamente, a tutte e tre le edizioni principali e i kernel 5.4 LTS con, ovviamente, tutti quanti gli ultimi driver disponibili fino ad oggi. Quindi state tranquilli se avete dell'hardware recente. Rispetto all'ultima versione del supporto di installazione sono stati anche migliorati gli strumenti sviluppati dal team di Manjar. A completare tutto troviamo poi Pamac 9.3 che ha ricevuto alcuni aggiornamenti, come ad esempio il supporto nativo a Snap e Flatpak per impostazioni predefinite, quindi adesso è più facile installare pacchetti Snap e Flatpak tramite BAU. Infine, parliamo di Linux Mint Debian Edition. Il team di Linux Mint ha annunciato il rilascio della versione beta di Linux Mint Debian Edition 4, nome in codice Debian. Molti di voi potrebbero non conoscere l'esistenza di questa variante di Linux Mint. Che cos'è? È una variante di Linux Mint che anziché essere basata su Ubuntu LTS è basata su Debian. È stata annunciata, rilasciata diverso tempo fa la prima edizione e lo scopo di questa variante di Linux Mint è quella di offrire un piano di riserva qualora per un motivo o per l'altro Ubuntu non fosse più aggiornata, non fosse più sviluppata e quindi per non ritrovarsi senza una base per lo sviluppo della distribuzione di Linux Mint il team ha deciso di fare una edizione basata su Debian. Questa nuova versione di Linux Mint Debian Edition, la versione 4, è basata su Debian 10 Buster. Offre il supporto ai driver proprietari Nvidia out of the box, Cinnamon come desktop environment predefinito e ovviamente le X-Apps. Se volete provare questa variante di Linux Mint Debian potete farlo scaricando l'iso al link che trovate su Marcosbox. Ovviamente sto parlando sempre di una versione beta, non è ancora stata rilasciata la versione stabile, quindi eventuali bug ve li beccate tutti quanti. Non so adesso bene quali problemi potreste andare in conto perché non sono un grande utilizzatore di Linux Mint Debian Edition, l'ho sempre provata nelle varianti stabili e quindi non nelle varianti beta, però io metto le mani avanti, non si sa mai, potrebbe capitare sempre qualche cosa. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!